Colpire me, colpendo i miei cari, colpendo mia sorella, colpendo mia madre. C'eravamo già passati, c'ero già passato. Nelle elezioni del 2012, ricorderete, proprio sotto elezione, un esposto per un abuso edilizio, mai esistito. Sono stati anni di processo, ricordo mia sorella in udienza, ricordo soprattutto mia madre in udienza ascoltata, ricordo quella lacrima sul viso, me la ricordo. E non auguro questo a nessuno. Questa è stata la politica del 2012. Mi ricandido a sindaco 2017 e mi ritrovo a vivere la stessa situazione. A tre mesi dalle elezioni si vuole strumentalizzare un fatto interno a un'azienda privata che sta a fermo per colpire me, candidato sindaco di Porto San Giorgio. Mia sorella, da fine novembre del 2016, è proprietaria al 100% e legale rappresentante di un polo scolastico paritario, il quale eredita una serie di vicissitudini, delle difficoltà che si stanno superando e che trovano oggi un effetto bomba con nove insegnanti e nonne che di improvviso non si presentano a posto di lavoro. Una questione interna che valuterà il MIUR, che valuterà la scuola, valuteranno i genitori perché a tre mesi nessuno lascia i propri alunni, ma che diventa di grande effetto mediatico a Porto San Giorgio, non a fermo. Nel comune di San Giorgio, non nel comune di fermo. Nei social di San Giorgio, non nei social di fermo. Nei bar di San Giorgio, non nei bar di fermo. Perché? Perché io sono candidato sindaco a Porto San Giorgio perché quella che serve una vicenda interna, una società che sta a fermo, purtroppo deve essere di domino pubblico perché fa di cognome Agostini il legale rappresentante mia sorella. E allora giù commenti, condivisioni, articoli organizzati, orchestrati, gente che stimavo con commenti, mi piace e via. E io a cercare di dire ai miei di lasciar correre perché comunque questo prezzo almeno io l'avevo messo da conto. So che se combatti contro la feccia, la peggiore politica, la politica corrotta, devi accettare che ti arrivi del fango addosso perché solo così possono cercare di metterti da parte. Ma vedere però quando si supera la misura, vedere la diffamazione aggravata, vedere la calunnia, vedere una denegrazione continua che va avanti nei giorni in porno stop. Ed ecco allora che tutti i responsabili ne pagheranno le conseguenze con le carte bollate. Provvederà il Tribunale, non è un problema mio, non è un problema della mia famiglia. Risponderanno anche dei danni che ci sono per questa società ed anche per la reputazione di tutti, compresa quella degli alunni, a cui evidentemente nessuno pensa di questi signori. Ma io non farò un passo indietro. So che nei momenti in cui mi si vuole attaccare, lo si fa perché io desista, perché la politica peggiore ebbe sempre la meglio che a Porto San Giorgio. No, io la politica la intendo proprio diversamente. La politica per me è servizio, è incontro con la gente. E guardate che non è che sono da solo, che a colpire me e colpendo i miei cari sottiene qualcosa, perché la maggior parte dei san giorgisi non è così. Non pensa che la politica debba essere colpire nel cuore qualcuno passando attraverso i cari, lo spiedo. Sono le idee, sono i programmi, sono la volontà di cambiare marcia, di ridare vita a questa città. E stiate tutti sereni. Noi le elezioni le vinceremo. E le vinceremo e siamo tanti a vincere le elezioni. Tutti quelli che vogliono una politica diversa. Perché quei commenti che ho letto di consiglieri, di assessori, di vari personaggi comunque interessati a questa tornata elettorale, rappresentano il suo fango, che nulla toglie e nulla aggiunge al fatto che noi siamo oltre. Siamo superiori. E come i san giorgiesi vinceremo, perché quella che vogliamo è la San Giorgio Gentile. È un confronto politico sincero, che va al cuore della gente. Perché Porto San Giorgio questo cuore, quest'anima, ce l'ha. E merita una politica migliore. Quella che daremo noi già da metà di quest'anno, 2017. Perché noi vinceremo.